Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia realmente accaduta. C'era un musicista che suonava in strada all'ingresso di una fermata della metropolitana in Washington, D.C. Era una mattina fredda, di gennaio. Suonò musiche durante 45 minuti. Incominciò con Bach, poi l'Ave Maria di Schubert, musica di Manuel Ponce, di Massene e di nuovo Bach. Erano quasi le 8 del mattino, era un'ora di punta. Passavano davanti a lui frotte di persone, quasi tutte dirette al lavoro o a scuola. Dopo tre minuti, un uomo di mezza età si accorse del musicista. Rallentò il suo passo, si fermò alcuni secondi e riprese il cammino. Un minuto dopo, il suonatore ricevette il suo primo dollaro. Senza fermarsi, una donna lanciò una banconota nella cassa del violino. Alcuni minuti dopo, un individuo si fermò alcuni istanti ad ascoltare, ma guardando il suo orologio, riprese a camminare in fretta. Stava ormai facendosi tardi. Chi gli fece maggiore attenzione fu un piccolo di tre anni circa. Sua madre lo prese e lo tirò, ma il piccolo continuava ad ascoltare il violinista. Finalmente, sua madre lo prese con forza e continuarono il cammino. Il piccolo, anche intanto che camminava, continuava con la testa girata a guardare il suonatore. Durante i 45 minuti in cui suonò, ci furono solo sette persone che si fermarono ad ascoltarlo brevemente. In tutto il tempo, riuscì a raccimolare 32 dollari. Nessuno fece caso quando il violinista smise di suonare. Nessuno lo applaudì. Tra le circa mille persone che passarono davanti a lui, nessuno lo riconobbe. Nessuno pensò che il violinista era Joshua Bell, uno dei migliori musicisti del mondo. Nella fermata della metropolitana suono alcuni tra i più difficili spartiti che mai siano stati scritti. E tutto questo con uno Stradivarius del 1713, un violino valutato circa 3 milioni e mezzo di dollari. Due giorni prima di questo fatto, non c'erano già più biglietti in vendita per il suo concerto nel teatro di Boston e i biglietti costavano quasi 100 dollari. Questo evento, questa manifestazione in incognito, fu organizzata dal Washington Post per investigare la percezione, il gusto e le priorità della gente. Queste erano le domande. Chiediamo allora al Signore occhi e cuore per saper apprezzare le tante meraviglie che ogni giorno ci sono donate. Che il Buon Dio ti benedica.